Musica Musica Beh, parliamo di demografia 194, feti ed intorni. La questione è molto semplice. Noi veniamo da 34 anni in cui la natalità sostanzialmente è uguale. Quindi, sono diminuiti i numeri assoluti, ma non dobbiamo farsi ingannare. Il numero di fili per donne è rimasto sostanzialmente lo stesso. Nel 1986, cioè 34 anni fa, era 1,34 o 36, non mi ricordo più, comunque, e adesso è 1,32 o 34 anche lì in questi anni. In questi 34 anni è rimasto sostanzialmente uguale. Il punto più basso l'ho avuto nel 1995 con 1,19. Il punto più elevato 1,42 o 1,43 a fine anni 2010 da quelle parti. L'altra cosa interessante è che in 20 anni, cioè dal baby boom 66-67 fino all'86, cioè negli anni migliori, negli anni d'oro della classe operaria, del sindacato, del benessere in qualche modo che cresceva, la percentuale di fili per donne è scesa da 2,7 a 1,36. C'è dimezzata. Questo perché? Perché questo è un effetto positivo, io lo credo, dell'emancipazione femminile, che nel momento in cui la donna è svincolata dalla schiavitura iproduttiva, è svincolata da dover fare figli e stare a casa, fare la casalinga, non come scelta ma come obbligo, e dovendo lavorare, avendo più ambizioni le ragazze, chiaramente cercano di fare carriere, quindi ritardano il fatto di fare figli, ritardano il fatto di scegliere una vita diversa e cercano di ribalcamenarsi, perché se tu fai figli e molli, ti passano davanti tutti quanti gli altri. Un dato significativo è che le donne che hanno 50 anni, l'11% non ha fatto figli, per varie ragioni personali, oppure non sono venuti. Le donne che hanno 40 anni, cioè in 10 anni, questa percentuale è del 23%, e quindi più che la doppiata. E oggi, bene o male, una ragazza su quattro, una ragazza su tre, dice chiaramente che non vuole fare figli, che non li farà, perché i figli sono visti come un ingombro, quindi non è questione di asili nido, di aiuti, di bonus, che ne abbiamo visti di tutti i colori negli ultimi 20 anni, dal progetto Gemma degli antiabortisti, ai 4.500 euro di formigoni, che non so se poi li ha dati o meno, ad altri progetti, al bonus mamma, al bonus nido, perché sì, sono aiuti. Chi fa già figli li aiuta, ma non sono questi che portano, inducono qualcuno a fare figli. Tanto è vero che è una nozione comune che chi fa più figli sono le fasce più povere e i più ricchi. La battuta è sempre la stessa, i più poveri fanno figli, tanto crescono da soli in qualche modo, i più ricchi fanno i figli e non li vedono neppure, perché tra BBC e altri qualcuno si ne occupa. Questo è il punto importante. Il corollario è il fatto che in Francia, dove si dice che fanno tanti figli, fanno 30% di figli più delle italiane, dipende anche quale fasce di popolazione fa più figli, perché anche lì le donne di origine maghebina fanno più figli delle donne francesi, ma questo è secondario, però fanno anche il doppio di aborti, più del doppio, sia spontanei che volontari. Persino la Svezia fa il doppio di aborti delle italiane. Questo per dire che, non è semplice, si rappella a dire fate figli, che basta qualche soldo per incentivare, non è quello il punto, fare figli è una scelta personale di tipo riproduttivo. La seconda questione, quella della 194, è molto semplice. Io faccio parte, il mio servizio copre, fa il 4% degli aborti di questo paese, almeno 10 regioni fanno meno aborti del mio servizio, sia volontari che spontanei, questo per capirci, perché le tecniche e le criticità sono le stesse, sia quando uno interrompe volontariamente la gravidanza, sia quando la gravidanza si interrompe spontaneamente, ma bisogna in qualche modo indurre l'aborto. E qui il punto è semplicemente non perdere tempo sulle polemiche che per 40 anni hanno bloccato a 194, con il peccato originario che l'Italia è l'unico paese che l'aborto si fa solo nel pubblico, è l'unica prestazione che si fa solo nel pubblico e questo crea chiaramente un colo di bottiglia. Non è così in Olanda, non è così in Francia, non è così in Inghilterra. E quindi la polemica è sempre contro l'obiettivo di coscienza, come se ci fosse qualcuno da accusare, di incolpare, come fossero gli untori per il Covid, e non invece la colpa di chi ha la responsabilità di dare i servizi. Dico sempre, se tratta di dare i servizi, come per le emorroidi. Per le emorroidi uno non va nel primo posto che capita, sceglie il posto dove andare, così pure per l'ortopedia, per altre cose. Non si capisce perché per l'aborto devi andare in tutti i posti dove ne fanno pochi e ti mettono così, si arrangiano in qualche modo senza nemmeno occuparsene più di tanto. Quindi al 194 sì c'è un problema, il problema è storico, cioè oggi il 90% delle ragazze giovani si considerano immune, che l'aborto sia un incidente di percorso di qualcun altro. Mentre negli anni 70 più di due terzi delle donne avevano l'aborto e lo facevano abbastanza presto e sapevano cos'era, oggi solo un quarto delle donne avrà un aborto nel corso della vita riproduttiva e non lo fanno a 20 anni, lo fanno a 30, 35, 40, per cui per buona parte della loro vita non si preoccupa dell'aborto e non mai non preoccuparsi di qualcosa che pensi che non ti capiti e quando ti capita non sai dove andare ma capita per moltissime altre questioni e soprattutto ti arrabbi perché scopri ostacoli, vi dicendo. L'ultima questione per non farla lunga è la questione della sepoltura dei feti. Qui abbiamo due aspetti, uno legale da sempre, che i feti vengono sbaltiti come materiale organico fino a 20 settimane. La legge italiana considera l'aborto da 20 a 28 settimane e questi vengono conferiti al cimitero. Di solito venivano o inumati nel campo feti in modo anonimo o in qualche modo, penso, non c'è mai stata polemica su questo tranne quando la signora chiede una sepoltura allora si fa una sepoltura e viene considerata come una salma qualsiasi quindi pompe funebri, eventuali cerimonie oppure tumulazione o inumazione. È successo che negli ultimi 20 anni molti comuni hanno deciso di fare invece delle vere e proprie tombe per ogni feto e questo ha creato dei problemi perché all'insaputa delle donne mettendoci il nome sopra o non mettendocelo quando poi si è trattato di riesumare il feto abboltito hanno telefonato alla donna per sapere cosa volesse farne. Questo è successo a Torino dove si è risolto a suo tempo in un modo molto semplice cioè che è quello di mettere un nome anonimo sopra il loculo perché adesso vengono tumulati e in altri posti invece come a Roma vengono messi con il nome che accompagna il feto fuori dall'ospedale che è per forza quello della donna perché essendo parte della donna come qualsiasi altro materiale ha il nome di chi proviene per il tracciamento. Questo è abbastante intuitivo e è quel cimitero che non dovrebbe utilizzarlo e dovrebbe codificarlo in altro modo. Diverse da questioni invece dove i movimenti antivoltristi chiedono di seppellire tutti i feti questo capita a Brescia dove c'è una parte del cimitero enorme con tante tombe uno vicino all'altro che sono peraltro io le chiamo mangiatoie perché sembrano molto le mangiatoie per i cani con le crocchette insomma e abbandonate perché poi qualche duna c'è qualche fiore ma la maggior parte sono abbandonate e nessuno se ne occupa e lo fanno per motivi prettamente politici e amministrazioni di destra ma molte volte anche qualcuna di sinistra si concede e dice ma sì è giusto che questi fetti vengano seppelliti dando uno status e un significato che non è quello e dimenticandoci questo modo viene completamente contraddetto alla volontà della donna che se non ha chiesto il funerale non è interessata non è che io mi sostituisca loro perché questa espressione per cui anche lì la soluzione è quella credo del regolamento comunale di Milano la quale dice tutti i fetti che vengono portati al cimitero per cui c'è una richiesta di sepoltura questa avviene per quelli in cui non c'è stata questa richiesta vengono cremati e le ceneri disperse nel cenerario nel punto di dispersione che tutti i cimiteri molti cimiteri hanno ormai credo che sia una soluzione giusta perché alla fine oggi la cremazione è ammessa da tutti compresa dalla chiesa non esiste più il limbo che è il motivo per cui c'erano c'era il campo feti e tuttora c'è e quindi tu se la donna ritiene di dover fare una sepoltura o qualcosa questo avviene analogamente a cosa succede per tutte le salme quindi è giusto questo se non lo ritiene il feto viene smaltito esattamente viene cremato che è una cosa molto simile a quello che accade per i feti sotto le 20 settimane questo lo dico perché è molto complesso il tema molto difficile e la gente non ha voglia di parlare di questo anche nell'assemblea radicale nell'assemblea si accontenta di slogan si accontenta di fare cortocircuitare poche battute ma un approfondimento non lo si fa mai perché è un tema ormai veramente negletto un tema limitato a pochi operatori e l'importante è che alla fine aborti si facciano perché poi alla fine aborti in Italia si sono sempre fatte e si continuano a fare qualche ostacolo può essere posto ma non tale da impedire l'esecuzione dell'aborto io non ho altro a dire se non quello che le regioni dovrebbero creare i servizi ogni regione in base un piano per quanti aborti all'anno ha intendo sia aborti volontari sia aborti spontanei e poi tutti i piccoli interventi ginecologici sulla base di questo stabilire i punti di riferimento con letti personale eccetera